Nella chiesa dedicata a San Nicolò Taumaturgo, annessa a Villa Borodina a Merano, si riunisce ogni domenica una comunità multiculturale per celebrare il lungo rito della Messa Ortodossa. Qui vengono soprattutto i russi, ma vengono anche i serbi, vengono anche gli ucraini e danno dimostrazione di una splendida convivenza, non ci sono mai stati problemi. I molti ucraini presenti ovviamente vivono con grande angoscia questi giorni in cui i parenti si trovano in zona di guerra. I miei fratelli di là stanno non so come, ogni giorno parlo con i miei amici e altri, i familiari, mi dicono che è incredibile, stanno bombardando ogni giorno. Una guerra che però, almeno per il momento, non ha portato divisione, prevale il senso di comunità. Perché siamo provenienti da diverse parti della Russia, dell'Ucraina, della Moldova e anche noi siamo, non posso dire che sono russi, russi, perché da me anche le parenti ucraini, lituani, della Litania, della Polonia, ibrei, è un po' di misto. Qui, ha detto l'archimandrite Sergei Yakimov, bielorusso, cerchiamo di evitare i temi che dividono e ci concentriamo su ciò che ci unisce, la preghiera e il credo cristiano. La guerra ha bloccato l'iter della convenzione che dovrebbe dare al comune di Mosca la gestione diretta del centro culturale, ma per l'assessore Bessone lo stop non è definitivo. La convenzione va avanti, ovviamente ci siamo presi un attimo di riflessione perché questi eventi ci hanno sconvolto, però è ovvio che questa comunità non deve pagare per scelte altrui.